Alessia Marcuzzi e Mara Venier insieme prima dell'Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi e Mara Venier insieme prima dell'Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ha trascorso ieri una bella serata insieme a Mara Venier, cena di lavoro prima dell'Isola dei Famosi? Molto probabilmente no. Le due conduttrici sono apparse molto felici e solari nella foto pubblicata sui loro social con i loro rispettivi compagni e amici, cosa che lascia pensare che l'occasione sia stata prettamente privata. Nulla toglie comunque che Alessia e Mara non abbiano parlato della nuova edizione del reality, secondo le ultime voci provenienti dai corridoi di Mediaset, la Venier potrebbe infatti ritornare sulla sua comoda poltrona rossa al fianco di Alessia, confermatissima alla conduzione dell'Isola. La Marcuzzi Cosa hanno fatto le due amiche durante la serata di ieri sera? Andiamo a scoprilo insieme. L'Isola dei Famosi, Mara Venier si diverte insieme a Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi e Mara Venier hanno caricato entrambe ieri sera una foto in cui sono apparse molte euforiche davanti ad una bacheca ricolma di vini. La conduttrice dell'Isola ha scritto nella didascalia dello scatto che tutto ciò è successo ieri sera, senza però scrivere cosa effettivamente è accaduto insieme al giudice popolare di Tussi Cuevales. Mara ha invece scritto queste semplici parole, stasera è così. Insieme ai panni. Cancelletto quanto ci piace de magna e beve Cancelletto friend's Cancelletto family Cancelletto Milano. Insomma, da tale dichiarazione traspare soltanto un dolce ricordo di una splendida cena trascorsa tramite. Le due comunque potrebbero tornare in tv nel medesimo programma, anche se nulla è ancora ufficialmente certo. Mara Venier è attualmente impegnata con il programma di intrattenimento di Canale 5 Tussi Cuevales, in cui si è messa in gioco al 100, prendendo parte a numerose esibizioni proposte dai vari concorrenti. Alessia Marcuzzi starebbe invece formando in questo periodo il cast dell'Isola dei Famosi, che tornerà sul canale principale del Biscione in prima serata in seguito al GF. Il reality ambientato nella casa più spiata d'Italia vedrà invece una nuova conduttrice, in ballo vi sono Ilari Blasi, Barbara D'Urso e Simona Ventura. Mediaset starebbe decidendo proprio in questi giorni a chi affidare il programma, anche se la più propensa a ricoprire tale ruolo sembrerebbe essere la conduttrice napoletana. Grazie per la visione!